Amici bellissimi, come state? Tutto a posto? Allora, oggi video più leggero del solito, ci facciamo una chiacchiera perché ogni tanto io sento la necessità, no? Ci sono delle cose tra magari una recensione, tra un video build, tra una cosa e un'altra dal punto di vista di video più tecnici, poi ci sono delle cose che per giorni, magari per qualche settimana, mi frullano nel cervello, io ci rimurgino sopra e quindi poi alla fine decido quasi sempre di condividere con voi determinate cose che ad un certo punto mi fanno, non sclerare, perché sclerare non è il termine giusto, ma mi fanno un po' riflettere e oggi è questo il video dove insieme a voi volevo un attimo parlarvi di quella che secondo me è una questione un po' spinosa ma che su YouTube sta un po' prendendo il sopravvento, soprattutto nel nostro settore, ovvero quello dell'informatica, dell'hardware, del gaming e di tutto quello che noi facciamo, ma non solo io, anche altri canali molto più grandi di me, amici con cui io spesso chiacchiero, parlo, che si occupano quindi fondamentalmente di hardware per PC e cose del genere. Prima di entrare però nel vivo di questo video io ci tengo a ricordarvi che questo video, come almeno uno dei video che pubblico a settimana, è sponsorizzato da Wookies, la piattaforma che tutti quanti conoscete, che io ormai vi porto sul mio canale per l'acquisto di chiavi di Windows. È una piattaforma veramente affidabile, io mi sono preso la briga di inserire Wookies come sponsor perché so che su Wookies non beccate fregature e so che se avete bisogno di una chiave la comprate e questa funziona al 100%. Su Wookies ci sono un sacco di sconti, c'è il mio codice MHD personale che vi dà diritto al 25% di sconto sulle chiavi di Windows, Windows 10 lo pagate veramente 4 soldi, meno di 12-13€, Windows 11 lo recuperate a meno di 20€ e se vi servono i pacchetti Office ci sono anche tipo Office Professional Plus 2016-2019, quindi se avete bisogno Wookies vi fa acquistare le chiavi con Paypal, con metodi di pagamento tracciati e sicuri e le chiavi una volta che le inserite all'interno della apposita sezione di Windows per l'attivazione funzionano. Il link li trovate giù in descrizione e Wookies è un esempio di come effettivamente noi o comunque io in determinate situazioni faccia delle scelte, e ve l'ho sempre detto del fatto che noi non ci nascondiamo di tra un dito, delle scelte comunque oculate sulla base di un'esperienza, sulla base di una valutazione che non è che diciamo viene fuori dalla mattina alla sera, ci sono anche tanti canali che fino a qualche tempo fa avevano deciso di non dare questa opportunità di sponsor, ci sono canali che prima di scegliere uno sponsor ci pensano bene, insomma tutto questo per dirvi che cosa, che anche nel nostro ambito, nell'ambito hardware non è sempre semplice fare dei video, mettersi di fronte a una telecamera e quando si tratta di scelte di componenti, quando si tratta di dare dei consigli e quando si tratta anche semplicemente di dare un'opinione, il peso del seguito, il peso delle persone che ci seguono sulle mie spalle, ma come penso sulle spalle di tanti miei colleghi si sente, quindi c'è molta, molta, molta cautela quando noi cerchiamo di farvi passare delle informazioni, quando noi cerchiamo di darvi un consiglio, perché? Perché c'è una certa responsabilità dietro le cose che noi diciamo, dietro le cose che noi facciamo. Allora YouTube è cambiato tantissimo, è cambiato tantissimo negli ultimi penso dieci anni, perché quando ho iniziato a fare i video qui su questa piattaforma c'erano fondamentalmente due tipi di creator, c'era il creator che faceva semplicemente intrattenimento, quindi c'erano dei canali dove le persone passavano il tempo a vedersi video di recensioni di film, video di recensioni di libri, c'era un po' di tutto, ed erano dei canali puramente di intrattenimento, lì dove diciamo non veniva fatta nessun tipo di azione informativa o nessun tipo di particolare ok cosa. E poi c'erano i canali su vari settori, tra cui anche quello dell'informatica, quello su cui siamo poi nati di noi, Saddi, i Prodigic, Kernan, Alessandro Mordentech, che hanno iniziato con i video tutorial, quindi c'erano dei creator che invece si dedicavano prettamente a dei contenuti informativi, cioè si era in un momento 10-15 anni fa dove se tu non sapevi fare una cosa, se tu magari avevi difficoltà, cercavi un tutorial su YouTube ed era un momento, è stato un momento fantastico di YouTube perché poi sono esplosi tanti canali e c'era diciamo quella convinzione di aiutare le persone. E nel nostro ambito, quello tech informatico, se voi vi ricordate io ho iniziato con i video su Windows, io ho iniziato con i tutorial, come fare questo, come fare quello, come installare Windows, come scaricare Windows, come installare un gioco, come migliorare le prestazioni. Quindi erano tutti dei video improntati più che altro ad un'informazione, a una sorta di aiuto, ok? Proprio diciamo quasi come un docente, che trovava riscontro in tante persone che cercavano quel video, si affidavano ad un video per risolvere un problema. Mano a mano questa cosa con gli anni è un po' cambiata, non tanto perché penso che il nostro settore si sia saturato, non penso che sia questo, ma perché l'attenzione della piattaforma, l'attenzione di YouTube, si è spostata sempre di più da una piattaforma informativa, quindi dove le persone cercavano fondamentalmente delle informazioni che altrove non trovavano e dove era possibile trovare le esperienze dei creator, perché inizialmente YouTube era Broadcast Yourself, cioè era metti te stesso, ok? Condividi la tua esperienza e potrebbe essere di aiuto, ok? Da questo punto di vista a tante persone. Con gli anni questa cosa si è un po' spostata macchinosamente, quasi totalmente, sull'intrattenimento, cioè sulla forma di intrattenimento, tant'è che anche YouTube stessa ha modificato il suo, diciamo i suoi algoritmi anno dopo anno affinché le persone stessero quanto più tempo possibile sulla piattaforma, in modo tale che ci fossero quante più interazioni, ok? E questo ha creato una community in generale un po' particolare, soprattutto nel nostro settore, c'è una community di persone che non guardano più i video dal punto di vista critico informativo, non guardano più i video, ok? Dal punto di vista, diciamo, dell'informazione, che è quella che noi cerchiamo sempre di fare. Io in primis cerco di fare anche quando faccio dei video che sono più personali su delle opinioni e delle cose, ma si è creata una community e non parlo solo di utenti, parlo anche di canali, parlo anche di canali che fanno video di persone che in realtà non hanno minimamente né le competenze, né le capacità per poter darvi un'informazione corretta, per poter fare un video informativo corretto. Io con questo non è che sto dicendo che tutti i canali sono persone incompetenti, non sto dicendo assolutamente che io sia il più competente creator tech su YouTube, ci mancherebbe perché anche noi spesso commettiamo degli errori. Però nell'ultimo periodo penso che ci sia un po' troppa, ok, libertà da parte di una serie di creator che ovviamente non cito, ma non conosco nemmeno, cioè a volte mi capita anche semplicemente di guardare dei video e pensare che alcuni determinati contenuti possano fare più danni che altro. Quindi si è creata questa sorta di miscuglio tra informazione non sempre adeguata e intrattenimento che però veramente porta a volte a dei video che assolutamente non sono dei video che le persone dovrebbero tenere in considerazione e in questa meccanica si creano anche poi ovviamente un'affiliazione, cioè le persone iniziano a seguire uno youtuber, un altro, si fidano di quello che quello youtuber dicono e per carità succede anche col mio canale e poi quello che succede è che sotto i commenti o magari in una sorta di discussione io vedo persone che commentano non tanto per una presa di coscienza o per un'oggettività di un'idea ma semplicemente perché sono convinte che quella cosa non sia vera, quindi vengono e iniziano a dire cose assurde che non entro nel discorso, però le più comuni, non l'abbiamo visto, i più comuni di atribe le playstation sono migliori dei pc, invidia è il male, è un'azienda, è una società che non fa l'interesse AMD è figa ed è la migliore, le prestazioni di AMD sono superiori in certi casi, cioè sono tutte delle convinzioni che più che derivare da un parere oggettivo e da una consapevolizza, derivano in realtà da una sorta di fanboyismo che ovviamente a sua volta viene innescato non così nella mente di un utente, ma viene innescato da quello che guarda cioè quindi viene innescato da una serie di cose che gli vengono dette ora il discorso so che è un po' complesso, però io mi sono un po' stancato ultimamente non mi sento più a mio agio su youtube, sono sincero non mi sento più a mio agio perché mi sono un po' scocciato sotto certi aspetti mi sono stancato di combattere veramente contro l'ignoranza delle persone attenzione quando io dico ignoranza non intendo l'ignoranza diciamo di chi non sa le cose perché questo canale è nato proprio per quello e ovviamente io non è che sono il più esperto o sono il miglior canale, però una cosa è certa che quando diciamo si fanno determinati contenuti si danno determinate informazioni è molto basato tutto su una serie di test che facciamo noi una serie di ricerche, una serie di esperienze e io mi sono un po' stancato di combattere invece contro quell'ignoranza delle persone che sono convinte di sapere le cose e argomentano a volte con delle cose che non stanno né in cielo né in terra e screditano invece un lavoro che noi tutti qui facciamo che è un lavoro serio che ci toglie tempo è un lavoro diciamo certosino sotto certe cose al di là di quelli che possono essere diciamo dei profili editoriali, cioè al di là di quelli che possono praticamente essere delle sorti di considerazioni personali, magari c'è lo youtuber o il creator che preferisce invidia c'è lo youtuber che nei suoi video cerca magari di aprire gli occhi anche su altre cose magari preferisce parlare meglio di intel, cioè ci sono, è vero tra di noi, una sorta come dire, di linea editoriale su certi argomenti ma mi sento ovviamente di poter mettere non una due mani sul fuoco sul fatto che quando ci sono delle cose oggettive da riportarvi, quando c'è da parlare mai di un prodotto, quando c'è da farvi aprire gli occhi, quando c'è da tirare su una questione importante, qualsiasi diciamo linea editoriale non ha nessuna valenza cioè le cose le ve le diciamo così come ne sono, mentre invece vedo tanti che dicono c'è proprio maree e maree di cazzate e questa cosa a me a volte veramente mi rode perché poi io mi ritrovo a dover diciamo interfacciarmi con una community che pensa semplicemente di poter avere la risposta a tutte le cose, di poter conoscere tutto semplicemente stando a volte dietro una scrivania leggendo un data sheet, leggendo una recensione e si fanno una cultura teorica sulla carta guardando e leggendo dei numeri e sono convinti di sapere tutto e questa cosa in realtà avviene completamente poi diciamo rasa al suolo dall'esperienza di alcuni content creator che sono in quest'ambito e fanno video ma non i video insieme ma si occupano di informatica, di pc non da un anno o due anni ma da 20 anni, da 15 anni, da quando avevamo 13 14 anni che mettiamo le mani nei pc quindi c'è questo mio sentimento un po' a mio avviso diciamo di non imbarazzo ma a volte vedo proprio che ci sono una serie di cose che andrebbero prese sul serio spesso e volentieri io non mi metto proprio cioè non vado proprio a sollevare questioni non sono la persona che va sotto i video di altre persone o che attacca nei commenti perché poi c'è il rovescio della medaglia tante persone mi vengono a dire mv hardware risponde mal nei commenti mv hardware banna sul suo gruppo telegram mv hardware quando non sa cosa dire vuole nascondere la verità ma queste sono cose che capitano su tutti diciamo i social su tutti i canali youtube quando in realtà non è così e noi cerchiamo io personalmente cerco semplicemente di contenere un fenomeno che è quello dell'ignoranza ma non l'ignoranza dal punto di vista vi ripeto di chi viene sotto un video e mi fa una domanda mi chiede un consiglio da inesperto perché quello è lo scopo di questo canale e cerco di ottemperare a questo scopo anche se sono certo che non sempre lo faccio nel migliore dei modi e non sempre ci riesco e ci riesco ma mi riferisco all'ignoranza di una serie di questioni che nascono non per un punto di vista informativo ma semplicemente perché si inizia a fare gossip si inizia a fare intrattenimento su dei temi si iniziano a fare delle guerre all'interno della community tra chi sostiene una cosa chi sostiene un'altra e questo non va bene e io vedo veramente di video assurdi vedo dei video di di gente che non che ha delle lacune ma grandi 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 che magari fino a due anni fa non sapevano nemmeno come si montava un pc perché forse siamo in un momento dove il pc gaming dove l'interesse per la tecnologia è cresciuta all'improvviso si mettono a fare i video e si mettono a consigliare o addirittura si mettano a screditare si mettono a fare di video contro altri youtuber vedo magari dei creator anche importanti che hanno diciamo tutta una serie di tutto un know how che pur di fare la visual in più pur di andare magari contro tendenza in alcuni temi oggettivamente palesi pur di fare il video diciamo contro corrente finiscono col fare diciamo dei video che veramente sono al limite della decenza ma non è questo il punto io non è che sto qui a giudicare questo o quello che fanno gli altri io sto semplicemente qui per esternarvi diciamo un mio disagio che è un disagio più che altro dovuto al fatto che un po' il social in generale ha dato voce un po' a tutti quanti no e questa è una cosa giustissima è una cosa bellissima però sono qui anche a volte per per ricordarvi di guardare bene cioè di non farvi trascinare all'interno di dei meccanismi a volte magari anche di odio a volte magari anche di superficialità ok e di considerare sempre comunque l'esperienza o la diciamo l'iccapacità la la competenza che le persone riescono a metterci all'interno di un contenuto sia nel bene sia nel male voglio dire a volte sbagliamo a volte siamo anche noi che possiamo farci un'idea sbagliata che possiamo sottovalutare una questione nel 99 per cento i casi ci torniamo sempre su e nel ma la maniera più trasparente possibile veniamo a dirvi qui probabilmente mi sono sbagliato forse ho fatto un errore mentre invece vedo tanta gente che fa delle cose che secondo me sono poco ok da seguire in generale e soprattutto vedo nei commenti di tutti i video di tutti i canali non sotto al mio vedo un continuo vuole rimporre diciamo le proprie idee anche quando queste idee in realtà non hanno nessun fondamento cioè non hanno niente di matematicamente oggettivamente provato al punto di vista ovviamente parlo dell'hardware dei pc delle delle recensioni usciamo da tutto questo meccanismo guardiamo semplicemente i video per quelli che sono è il nostro lavoro per quello che è cioè persone che ci mettono la faccia la passione persone che hanno anche delle competenze cioè e cerchiamo di uscire dal dal meccanismo di voler a forza andare a diciamo capire chi dice il vero chi dice il falso prendetevi le informazioni e ovviamente state alla larga da quei canali che le informazioni che vi danno ve le danno diciamo sulla base del nulla cioè quando vedete una recensione quando vedete di test fatti da noi quando vi vedete delle cose su cui ci perdiamo tanto tempo al di là di quella che poi può essere la vostra idea finale no dire secondo me sto prodotto si ne parlano bene ma non è non fa al caso mio al di di questo usciamo da questo meccanismo e soprattutto usciamo da da questa ignoranza imbarazzante cioè cerchiamo di come consiglio mio è cioè nel senso io vorrei una community no meno tossica perché non è vero che la nostra comunità tossica la nostra community non è tossica la nostra community è una community esigente è diverso usciamo da questi meccanismi di ignoranza e in impariamo a riconoscere diciamo il giusto ai canali alle persone che perdono tempo si impegnano ok vi portano dei contenuti di un certo livello distinguiamo da tutto il resto che sono pure diciamo telenovela cioè sono pure idiozie che voi vedete in giro e soprattutto basate sul niente cioè basate sul fatto che il primo idiota che magari non ha mai nemmeno montato un pc in vita sua e che ha visto un processore negli ultimi tre anni ha toccato con mano mezza scheda video si siede con il suo bel culo pesante su una sedia si legge tre quattro recensioni o si si va a guardare tre quattro file ok e pensa di avere la soluzione la risposta di tutto e tra l'altro c'è diciamo facendo anche degli errori belli pesanti e facendo un danno alle persone quindi cerchiamo di uscire da sto meccanismo facciamo tornare youtube quello che era prima c'è una piattaforma di informazione di qualità e distinguiamo questa informazione di qualità dalla marea di cazzate e di diozie che si trovano un po' in giro va bene grazie per essere stati qui con me scusatemi se questo video forse è stato un po' lunghetto noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao